Se io lascio una persona in povertà, perché di fatto è povertà, oltre l'umiliazione, io quando sento queste storie, mi piange proprio il cuore, mi dispiace. Da una parte ho rabbia, dall'altra parte mi sento proprio quasi inutile nella funzione che ho, anche se io non sono onorevole, io cerco di fare tutto come consigliere comunale, però spiace veramente vedere queste persone che si devono anche andare a umiliare, magari a contare le cose, io sento di gente che dice, vado dai vicini a chiedergli se hanno magari il pane secco, così lo grattugio, riesco a fare. È una cosa che dispiace tantissimo, perché è gente che ha lavorato tutta la vita, come questa signora. Da quando avevo 11 anni ha sempre lavorato e ora si trova a dover pietire qualcosa che per me è un suo diritto. Perché fare una vecchiaia dignitosa dovrebbe essere in uno Stato civile il diritto di tutti. Come vergognoso è non vedere nessuno dell'amministrazione, non tanto qui, va benissimo nella televisione, ma là doveva essere in mezzo a quelle persone, doveva essere lì a dare delle risposte, perché qua si parla di una questione legata al pubblico, perché da quello che ho capito sono i canoni calvierati, sono stati dati i soldi pubblici, dovrebbe essere lì, non dovremmo essere neanche a discuterla e questo con Esposito lo condivido quella situazione, perché ci sono situazioni che magari sono degenerate per i miei motivi, è una sconfitta dover raccontare quelle storie di tutti noi, lo sono d'accordo di questo. 5 secondi per dire, Esposito giustamente dice ipo le risorse, qualche risposta è stata data, io ne aggiungo una piccolissima, sbrigatevi, la legge è già passata alla Camera dei Deputati, sbrigatevi a fare l'operazione dei vitalizi, perché così date anche un segno, oltre che risparmiare, date un segnale al Paese di maggiore equità. Infatti io su questa cosa voglio sempre aggiungere una piccola postilla, perché sennò facili tacciano di essere populisti e demagoghi. È vero, né le pensioni d'oro, né i vitalizi, ci sono buoni problemi, lo sappiamo benissimo, non sono quelle risorse che cambieranno, però esiste un elemento simbolico di equità che in un Paese che sta così male è, a mio giudizio, cruciale. Punto e basta. Fate passare a leggeri cerchi pubblico, immediatamente. Allora...